Musica Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video qui che vi parla Enzo205 e oggi siamo in questo video in cui parleremo di uno dei youtuber più famosi in Italia ovvero LionVGF per chi vi conosce già su TikTok sa che ho già portato qualche video così da su di lui in tal caso l'hanno subito su TikTok, questo è il profilo mi raccomando di venire tutti quanti a seguire e niente, detto questo iniziamo col video Numero 1 Il vero nome di LionVGF è Ettore Canu Numero 2 Lion è nato a Sassari in Sardegna Il primo video di LionVGF è di Deitz pubblicato nel 23 giugno 2012 Numero 4 Il suo primo video di Minecraft è stato pubblicato il 13 luglio del 2012 Numero 5 Lo so, guardate che il logo di Lion è ispirato alle barrette di cioccolato Lyon come potete vedere si assomigliano un sacco Probabilmente mi chiami di Capitano Ovvio ma in questo momento Lion è uno dei gamer più seguiti in Italia Numero 7 La skin di Stefano è ispirata a Natsu Vi lancio una sfida Dovinate di che anime fa parte questo personaggio Lyon carica il suo primo vlog a 400 iscritti e si chiama il vlog più ignorante del tubo Lyon pubblica il primo video della Failcraft il 13 dicembre 2014 Lyon ha aperto il canale YouTube il 16 aprile 2012 Quindi ragazzi direi che il video si può concludere qui Spero vi sia piaciuto Fatemi sapere altri video che forse non ho detto in questo video o che forse che non so Mi raccomando sono curioso di sapere la vostra di questo video nei commenti Mi raccomando lasciate un bel like Iscrivetevi e attivate la campanellina Detto questo al prossimo video Ciao 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 ciao